Ed un saluti voi dal vostro Luca DNG, da Sony Lady Tekken, bentornati qui sul Principe di Persia, le sabbie del tempo, allora l'ultima volta siamo finiti in queste fogne puzzolenti, adesso ho un caduto di sotto che non volevo, devo ritornare lì. Iniziamo proprio bene, non è in vena lui, non entrare lì dentro, allora iniziamo, come c'eravamo lasciati nella scorsa puntata abbiamo visto che dovremo fare un po' di giretti qua sotto, con l'obiettivo di uscire fuori da un pozzo praticamente, che porta fino sopra, ma prima di fare ciò dovremo esplorare un attimo il luogo, perché ci sono delle cose da raccogliere. Per rendere le cose un po' più fastidiose. Sono dappertutto sti pipistrelli, sono nelle fogne, sono nelle gotte, sono nei cessi, sono dappertutto. Mamma mia. Una parte un po'. No, è tutto a posto. Olla! Ma che... Ok. Sto? Bene. È bravissimo lui a fare queste cose. Hoppa! Eeeh... Allora qua, mi sa che devo fare un salto brutto. Ce la farò? Ce la farò di qui? Sembrava sbagliata, ma... Eh, sembrava sbagliata, ma... No, per fortuna. Porca! Dondola, dondola! È dondola, ti? Eh, ci sto provando, non è così facile. Possibile. Ok. Mamma, per un pelo. Devo scegliere bene i tempi. Eeeh... Io ci provo, eh. Vado, vado, vado. Non vado, non vado, non vado, non vado, non vado. Vado, 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 vado. Qua sotto vedo già che c'è una cosa. Vado, aiutati con la voce, vai, vai, vai. Non che voce. Eh, adanti il ritmo. Non ci sta. È per me. Ma qui non ci siamo venuti solo per questo, giusto? No, solo per questo. Quindi saliamo su. Bene, pensavo ci fosse altro. Andiamo avanti allora. Tavoli, una leva. Sento rumori, ma non vedo niente. Ah, pipistrelle anche qui. No, ma guarda. Ma che carini. Mi ucciderò tutti. Maledetti Zubat. Chiamano così? No. È un Pokémon, insomma. Mamma mia, è certo che non sapere certe cose. Ma io la so, sei tu che non la sapevi. Eh, io la stavo dicendo per me. Ecco. Mi ha tagliato le mani. Eh, sono un po'. Eccola lì sotto. Ma cosa? No, no. Spingi. No, è che... Appunto dicevo, mi sono persa un po' di cose. Ce ne sono troppi di Pokémon, sai. Eh, ma quella è prima... Prima generazione, eh. Proprio. Ah, Pampi! Eh, cos'è? Solo perché la prima generazione dovevo impararle a memoria. Io li ho imparati tutti a memoria. Bravo. Bravo. È lì, mi è servito molto, Navi. Certo che mi è servito nella vita. No, io, allora, io ero piccola quando seguivo i Pokémon. Figuriamoci se imparavo o se volevo imparare tutti i nomi dei Pokémon. Certo, io quando sono andato alla bora... Poi non li ho più cagati. Mi hanno detto, ma tu li sai i nomi dei Pokémon? Eh, no, se non sai i nomi dei Pokémon. Ah, poi li ho lasciati perdere crescendo. Non è una cosa che ho continuato. No! Ecco, lo rifacciamo. È impazzito il principe. Il principe è impazzito. Il principe cerca molto. Ah, fanculo! Dai, mi scivola sul piscio questo. Si vede che le lame quando gli hanno tagliato le mani. Eh, gli hanno tagliato anche il penne. Certi cose non si possono per fare. Parte la musica di violino, triste. Ma qua la corda è da questo lato? Sì. Eh, vabbè però. Allora. Lo prenderò? Lo prendo. Dondola male. Dondola. È la regola numero uno. Dondola. Non mi devo perdere perché qui se sbaglio mi perdo qualcosa. Io non voglio perdere nulla. Lì è l'uscita. Ma, dato che noi non vogliamo uscire. Ma? Eh, vogliamo andare di qua a prendere i segreti. Ah, di nuovo sto giochetto perché era bello, ho capito. Eh, sì. Parabarabarabah. Parabarabah. Parabarabah. Parabah. Parabah. Gna. 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 Guarda, come è bello. Sopra così divertente a vederlo. Ma non lo è. Per niente. È rompata. È rompata. E' altra potenziamento della vitella. E' anche il mal di panto. Del vitello. Perché lui fa questa reazione? Ma lo so, eh. Ma mia, chi sa i batteri che ci sono in quell'acqua. Eh, beviti sta candeggina. Che buono sto scorgante. È uguale. È sgorgante questo. Non so se. Dai. Vabbè. Zzzzzzz. Bene. Aspetta un pelino di più. Ma basta, avanza. Eh, wow, anche potenziamento qua. Siamo invincibili ormai. Eh, per tornare indietro ce la faccio da qua sotto. Sì. Molto più comodo. Allora, adesso dobbiamo semplicemente uscire da questo pozzo. Ed eccoci fuori Oppa E che E vabbè Non si può più tornare da dove siamo venuti Ma chi ci voleva tornare lì? C'erano i bagni Ma noi la facciamo Ma il mio pensiero è In tutto questo casino Far a dove andate? Eh non aveva detto che ci aspettavano i bagni E lui infatti ha detto ma quali bagni? Questi dall'altra parte della città Non ti ricordi che la prendeva in giro Fatto? No Ciao Quanta gente Ma dai! Non ci vedo Orso balosso Quello lì che intanto mi gira dietro Come dire Sono qua Sono qua Non è molto agibile Non è molto agibile Ma cosa sta succedendo? Acrobazie di tutti i tipi Si vede che è andato anche un po' al circo Magari Nel suo curriculum Cioè Lavorato al circo Lavorato al circo Ho fatto lo stage al circo C'era da scegliere Ma lasciami stare Mamma mia Sto guai che non aspetta il suo turno Prendete il numero Prendete il numerino Bomb Grazie Mi avete fatto sprecare un casino di sabbia Prendila E la recuperiamo Poi C'è un flash The flash Eh? Eh? Ah eccola Si sta salendo delle piave Ok ci ha fatto vedere semplicemente dove stava Fatto La prossima volta riprenderò da qui Ok Dovremmo raggiungerla in qualche modo Speriamo di farcela Eh ci provi Eh ci provo Tanto poi puoi tornare indietro con la sabbia Con la sabbietta La sabbia magica Oh la sabbia del gatto E anche sporca Ah ok beviamoci sopra va Si Ci ha messo tutte e due i piedi sotto Eh certo Eh no Con calma Ah qua devo fare una cosa brutta Pronti? No dai Non è successo niente Si rifà Sarebbe successo quello Era solo per farvi vedere cosa sarebbe successo Era tutto calcolato Tutto calcolato Tranciata la testa così Non dici niente? No Ma dici qualcosa Da un po' che non parli Queste le lame le hanno tagliate anche la lingua Non ci ho pensato Allora Qui vedo che c'è una cosa a tempo Quando è così è a tempo Ehm Scale Ah sono le scale che saliva lei Forse ma lei non le aveva tutte queste cose Ma guarda No io Io ce le ho No Beata lei Ma come fai? Eh ma questa? Eh ma questa? Oh la Oh la Oh la Compari nella bolla Sei tu? Ehi Sei tu? Sì Ma va Ma va No Fatto? Posso andare? No Sento Sento C'è da qualche parte Ok Ma dai Lasciatemi Perché non siete mai da sole Ma doi Guarda che roba Non finiscono mai Sarebbe stata semplice Qui la citazione Non lo fa Non lo so Leggio non finiscono mai Anche qui c'è acqua E' volendo Sì sembra Volendo c'è questa Ma doi Mamma non finiscono più davvero Sembrava No Eh quando ci sono delle scale in mezzo E' sempre un problema No Morondo Era uno scontro importante Ma che importante E' visto la quantità che tiene Ma cosa succede Ho visto passare un'onda energetica Sono io che vedo Anche ormai Che visuali mi dai E quanti ce ne sono Soprattutto Vabbè intanto tu racconta qualcosa Si manteneva la panza C'ha il coso che è strange Che bustino Ok Ok Meno male che c'è l'acquetta qua Ma che c'è l'acquetta qua Farà dove stai Aspetta che ci lo dice Rompio un muro Staccati una leva Corri lungo un altro muro Rompio un altro muro Ammazza gente C'era anche Farà Sposta una statua Vabbè un po' di cose Deve essere qua vicino Riprenderò da qui Sì ma se non incontriamo Farà Io non stacco la puntata Fino quando non la trovo Ma deve essere qua vicino Se si sentiva la voce C'è un po' di tender qua Oh Eh basta Ho sentito rumore di nemici Ma dove sei? Stai lì Sto arrivando Io ovunque ci sei Stai lì Sono qui Sono qui Sono qui dove? Non lo so Ho trovato un'altra cosa Ma va bene lo stesso Pazzo sai Qui c'è una leva Tra l'altro La tiro? Proviamo Qualcosa farà Ah dietro un'altra tenda Ragazzi un attimino Perché non è che posso sapere tutto Posso ricordare tutto Ah eccola è là È in pericolo Sì ma è là che corro in mezzo ai nemici Che cazzo che fa C'è un altro uomo Sì Farah 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 Perché se Sento lei Sì ti sento ma non ti vedo E deve stare dall'altra parte del muro Ma perde anche vita Adesso sì Dove sei? Ah sei qua Mannaggia a te Tira ste frecce Ma che cosa lei la recupera la vita? Tira le brava Tira le frecce Ne ha sprecato ancora Ma se nessuno la cucina Che ne so Questa perde vita Questa perde vita Per spaventi Sono qui Allora che si fa? Beh non sono finiti Ah ecco vedi la recuperata Non tutta ma Ma dai ma Ma dai Se questo si rilevasse da qua davanti Fatto? Mi ha finito? No Figura Che visuali Non voglio Non voglio Non posso lasciarti continuare Questa è una crisi Qui abbiamo I dipendenti scontenti Lei è un'impiegata Sottopagata Ma quando Ce l'ho tirato Fatto? Sì sì No No Ma che altro c'è? A chi miri? Miri a sinistra A destra Non so dove cavolo sono Ma basta Ma basta Ma basta Pensa a quella Dobbiamo fare il gioco di squadra Fala Nel culo della mia roba qua Ok Mi ha finito? Grazie Da solo Vuol dire che questo è più importante Un gioco di spesa Un enigma Che vedremo nella posta E questo Bel posto Bel posto Fatto La prossima volta Riprenderò da qui Non mi lasciare Amore mio Ti prego Non mi lasciare Cos'hai detto? Non importa Come non importa? Quello che conta È che so come raggiungere la torre Allora Ma certo La clessidra Va bene Ma questa volta Stammi vicina E fai attenzione Non posso passare il tempo A rincurerti No dai No dai Che brutto Vabbè Però Lei lo chiama già amore Ma non è successo niente Tra loro Cioè Che strano Mi sembra Che strano Mi sembra te un po' troppo affrettato Dirlo Beh Cosa stai aspettando? Ho paura E se poi mi cacciano i guai E tu devi metterti a rincorrermi Ti prego Vorresti dire che hai davvero bisogno del mio aiuto? Sì Ah beh In questo caso Si stuzzicano E beh Dai Lui l'ha trattata un po' così Dai Apri sta porta E ora Ho paura E se poi mi cacciano i guai Ma sei cattivello eh Sappi che tutto questo va su YouTube Lo sapranno tutti Dai Non lo so perché lui non la sopporta Esagerato Eccoti Sei sicuro che non ti sia d'intralcio? Tranquilla Tranquilla Gattina Tranquilla Ah questa la giriamo già anche se è un po' prestino La vedo due trilioni di nemici Ah sono diventati un po' La sala della sapienza Stavo parlando Dobbiamo essere usciti dalla parte sbagliata dei bagni Ovvio Dobbiamo riattraversare il palazzo reale Perfetto Se esci dalla parte sbagliata del bagno vai nella sala della sapienza Perché ovviamente cachi leggendo un buon libro Allora Ma arrivano Uno per volta però eh Uno per volta Tutti insieme Guardate come mi hanno accerchiato Oh sto morendo sto morendo sto morendo sto morendo mi hanno fregato mi hanno fregato Mi hanno fregato ma sto andando malissimo colpa della canzone nuova quella la sta là invece di aiutarmi qua Ma fu... Oh Brutto Non male che possiamo farlo Sì ma non è che posso tornare indietro tanto eh C'ho il limite Ma dai Si sono presi bene E basta Madonna Eh si sono forte Fontana 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 Aiuto Aiuto mi vuole de... Può colpire no? Mi vuole decapita... Madonna Sì ma il problema è che è una merda Eeeeh no visuali brutte Non vedo nulla No Madonna No c'è troppo Troppo casino Farà fai qualcuno Ti prego Aiutami Lasciatemi stare voglio bere Madonna No 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 Bevi 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 di più Che farà se la... Se la cava anche da sola Era quasi steso il farà Quasi Un'alpugnata No No Aiuto! Eh aiuto! Farà! Guarda che io non è che mi sto grattando le palle Tiragliela quella freccia, mamma mia, sei lì che lo guardi No, ce ne sono mai! Non finiscono mai, che cacchio devo farci io? Vai a cagare, aiutami! Beh, lei ha recuperato un po' di vita Beh, io invece la perdo a vita Non hai il tempo per recuperarla Provo a bere, ma il bar è chiuso Un whisky Ma... come si piedi dentro la cazzo di fontanella dove poi devo bere Ecco, non è più potabile Che schifo! Se l'è giocata Eh... Non avesse pestato una cacca poco qui, ma... Non ce lo siamo... Eh sì... Andate indietro al minuto Grazie! Grazie! Io direi che staccheremo... Però prima una bevutina Eh... Perché adesso beve Adesso beve Ma guardate, mannaccia lui Va bene Allora... Dov'è il salvataggio? Che si fa? Eh, che si fa? Si cerca... Non lì però Si cerca il salvataggio Che da qualche parte... Almeno che non sappia dormire nei chiodi Si C'è uno strano simbolo su quella colonna Cosa vorrà dire? Non l'ho vista Non me ne frega niente di cosa vuol dire Sto andando a salvare Ne parliamo nella prossima puntata, Farah Salta, salta, riattaccati, scala e risali su Qui ci saranno un bel po' di enigmi La prossima puntata sarà Enigmos Enigmistica Eh sì Sarà la puntata Enigmistica Fatto Fatto La prossima volta riprenderò da... Quindi grazie per aver guardato anche questa puntata Farah e il nostro principe forse stanno... Cioè chi si ama si apprezza sapete Chi si odia si ama... Vabbè Eh... Un saluto da tutti voi dal vostro Luca di NG Da Sony Lady Tekken E ci vediamo alla prossima puntata Sperando di capire qualcosa Ciao 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 Ciao